Amalgamenti è un'opportunità, è un luogo di opportunità che noi vogliamo dare ai giovani che lavorano in comunicazione. Ci sono tanti freelance che lavorano da casa, ma lavorare da casa significa non avere i rapporti diretti con l'esterno. Qui ad Amalgamenti ci sarà l'opportunità innanzitutto di far coesistere tre ragazzi che fino a quel momento non si conoscevano. Dopodiché sarà un momento di contaminazione con le altre strutture che sono qui dentro il pastificio per guida europee e Subjet 832. Noi cercheremo di dare una mano, di dare una spinta a questi ragazzi affinché crescano e ovviamente loro daranno una mano a noi a portare freschezza, a portare nuove idee perché ripeto soprattutto nel mondo della comunicazione è fondamentale contaminarsi, confrontarsi e generare quelle idee incredibili che ogni tanto si riescono a vedere. Da oggi sarà attiva un'email che è amalgamenti.ilpassificiocomunicazione.it alla quale chi riterrà opportuno candidarsi basterà il curriculum e che sia under 29. Noi poi a settembre, quindi da adesso fino al 15 settembre, poi successivamente noi faremo dei colloqui per scegliere i primi tre che verranno a portare vita dentro a questo luogo, a questo spazio e mi auguro veramente che si creino nuovi grandi professionisti. Questa è un'iniziativa alla quale siamo particolarmente legati perché è un po' come se venissero coniugati due aspetti che per i giovani imprenditori sono fondamentali. C'è quello di far crescere nuove leve e quindi il fatto di avere qui tre possibili nuovi imprenditori ci riempie ovviamente di orgoglio perché hanno scelto questa strada ma vogliamo anche affiancarli e farli crescere in modo che siano pronti per essere sul mercato, che abbiano un'idea di cosa è la competitività, che abbiano un'idea di come muoversi sul mercato perché per chi inizia purtroppo non è facile, non è assolutamente facile. Non è facile neanche per chi inizia e ha già un'azienda alle spalle. La fase di start up è complessa e va seguita allo stesso tempo possiamo aiutarli in un'attività di tutoraggio proprio dell'imprenditore, quindi dal business plan della loro attività piuttosto che a cosa serve all'azienda perché queste persone faranno comunicazione e spesso rendersi conto di quello che sta cercando in quel momento l'azienda può fare in modo che loro si preparino al futuro. Beh è una grande opportunità viene data al territorio di Treviso, ringrazio da Europee e Piersioso Paladin per aver intrapreso questo tipo di attività. Siamo molto contenti che venga fatto in un quartiere, quindi peraltro nel quartiere popoloso di Treviso e questo dimostra che si può fare imprese, attività, attività di promozione e attività di formazione anche nelle periferie. La regione guarda con grande attenzione a questo progetto di amalgamenti del pastificio perché... Grazie. Grazie.